Grazie di cuore Rosario Pergolizzi per averci portato alla vittoria. Una frase, dieci parole, due punti esclamativi, con un messaggio pubblicato su Facebook nella tarda serata di ieri. Il vicepresidente del Palermo, Tony Di Piazza, ha dato il via alla giostra di quesiti, dubbi, speranze e fantasie dei tifosi rosa-nero. Un semplice sentito ringraziamento per alcuni. Un grazie e arrivederci per altri non lo sapremo prestissimo, ma quel che è certo è che nella piazza rosa e nera, ora che la promozione in Serie C sembra cosa fatta, l'argomento che più degli altri, persino più del calcio-mercato, oggi tiene banco è il futuro di Rosario Pergolizzi e dunque della panchina del Palermo. Osannato dopo le dieci vittorie consecutive ad inizio campionato, criticato aspramente dopo il primo KO e di conseguenti passi falsi della corazzata rosa-nero, sempre difeso e protetto dalla società, il tecnico della rinascita è assoluto protagonista di tutti i bar sport palermitani. Per molti merita la conferma anche in C, per molti altri sarebbe un grave errore affidargli la panchina anche tra i professionisti. Lui però non si scompone, prosegue nel suo lavoro con i ragazzi, seppur a distanza, e sceglie la via del silenzio. Con ogni probabilità anche Pergolizzi attende di conoscere il futuro di Pergolizzi. Ma basta una piccola, piccolissima scintilla per innescare quell'incendio di fine primavera che chiamiamo toto allenatore. E allora via con la lista di candidati alla successione, dai ritorni eccellenti come Delio Rossi e Giovanni Tedesco fino ai profili di assoluto spessore per la categoria come Boscaia, Caserta, Braia, passando per Auteri, Grassadoni e Scienza. Insomma, chi più ne ha, più ne metta, ma dalla società ad oggi nessun segnale, né in una direzione né in quella opposta. D'altronde si attende ancora l'ufficialità della promozione, poi la certezza di rientrare realmente in una Serie C professionistica, dunque escludendo qualsiasi riforma penalizzante per il rosa-nero. Solo allora si potrà far luce sulle reali intenzioni dello Stato Maggiore del Palermo.